buongiorno a tutti allora Maurizio ha appena fatto colazione e qua il seggiorno di Camilla è vuoto perché Camilla sta ancora dormendo e noi ne abbiamo approfittato per fare con calma perché oggi viene il tecnico della caldaia a fare il controllo annuale quindi la mia cucina è momentaneamente in queste condizioni è tutto accampato sul carrello e sulle sedie e ho messo un telo perché non voglio che mi distrugga e mi sporca tutto il top ok ordine quasi ripristinato la caldaia è a posto il tecnico è andato via e quindi riprendiamo le nostre funzioni della giornata il nostro primo bernoccolo guardate qua ma povero ma amore si è fatto malissimo perché stava correndo come un matto e ha sbattuto con lo spigolo della porta ma guardate qui come è diventato adesso gli ho messo un po' di ghiaccio speriamo che non si gonfi povero amore il bambino in questione è questo cioè fa malissimo perché è tagliente da matti soltanto che è praticamente la cornice della porta non possiamo metterci dei paraspigoli qui altrimenti poi la porta del bagno non si chiude ma povero amore mio mi fai vedere patatino come è messo questo bernoccolino ma guardate di povero amore allora è arrivato papà perché ho visto fuori dalla finestra adesso vi faccio vedere perché quando arriva il papà i bambini gli si fiondano tutti e due addosso che sono tenerissimi maurizio 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 amore guarda che adesso arriva papi notare che anche Gino se ne è accorto che è arrivato papi perché ha guardato fuori dalla finestra adesso apre la porta la porta è arrivato papà ok bamba le cianci adesso ci siamo preparati mi sono truccata e vestita maurizio si è appena chiuso in cucina e andiamo a fare la spesa abbiamo un sacco di commissioni da fare preparate le borsine e partiamo allora ho preso le scarpine vi faccio vedere Camilla appena mettiamo le scarpine sul tappeto capisce che dobbiamo uscire si siede e aspetta lì fino a che non le mettiamo non gliele infiliamo ecco lì Maurizio dov'è? Maurizio andiamo amore e tu le scarpine non le vuoi mettere? Camilla dobbiamo mettere le scarpine amore? si amore le mettiamo andiamo bravi attenzione Camilla c'è il gradino stai attenta anche tu Maurizio c'è il gradino che entusiasmo andiamo allora Mauri ciao Mauri dai Camilla ce la fai? fare il gradino? dai dai che ce la fai ce la fa ce la fa ce la fa ce la fa ce l'ha fatto bravo c'è più guance che tento lì bravo a lui Camilla vieni qua è un luogo sicuro non passano le macchine perché c'è un cancello esterno quindi siamo tranquilli però li teniamo a vista c'è un sacco di roba ricordi questo qua è tutta roba nostra eh? voglio chiedere questa qui ah si per il prezzo dopo glielo chiediamo sono messa sbagliata letto qua yeah frigo pieno mi mette allegria frigo pieno capita raramente però va bene vabbè abbiamo finito tutti i nostri giri io adesso sto sistemando la cucina mentre il papà sta facendo sta intrattenendo i bambini in modo che così io riesco a sbrigarmi più velocemente eccoci qui che stiamo giocando tutti insieme ciao papà ciao ciao bimbi salutate ciao ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti